Se cerca la chiave, è nella toppa della porta. La chiave dentro la toppa? E chi c'è la ficcata? L'ho messa io. Vuole dire che lei ha ravanato dentro il mio intimo? Beh, ho cercato in tutti i modi di svegliarla, ma ronfava come un ghiro. Ha il sonno pesante, lo sa? A domanda risponda. Vuol dire che lei ha ravanato nel mio intimo? A domanda rispondo, sì. Paddio, ma non si rischia il caccozzo. Ma quale rischio? Ma come quale rischio? I rischi di svegliare la belfa? Qui ci vuole dare i cittadini con la sedia e la frusta per tenere la bada. Questa è Zaira. Ma lei non sa i rischi che accozzo.